Noi abbiamo, i nostri uffici hanno calcolato un R con T dello 0,63% e quindi ovvio è che è un R con T molto basso rispetto alle prospettive di un cambiamento di zona. Ma soprattutto rafforzato rispetto alla zona che oggi abbiamo, che è quella gialla, dal fatto che le terapie intensive sono al 19%, la soglia al 30% e i ricoveri in area non critica sono al 24% e la soglia al 40%. Cioè di fatto noi abbiamo tutti i parametri, quindi l'R con T, terapie intensive e area non critica dichiaratamente sotto il parametro. Vi ricordo che l'area con T per passare alla zona arancione bisogna superare l'1, noi siamo a 0,63%. Siamo sotto, area non critica, cioè area medica e terapie intensive siamo sotto. In più siamo bassi, fortunatamente, anche con l'incidenza sui 100.000 abitanti che è a 113. Vi ricordate che 15 giorni fa avevamo 480. Quindi siamo a 113 positivi ogni 100.000 abitanti in una settimana. Vi ricordate che quando si parlava del parametro di un'incidenza che poi è stato scartato perché non uniforme e perché è strettamente correlato il numero dei tamponi, si parlava di un'incidenza soglia di 150. Noi siamo a 113. Allora, siccome la domanda che mi fanno i cittadini in queste ore è cambiamo zona, la cambieremo se vogliamo andare a farci una passeggiata, fare altre robe, ma di certo non col colore, immagino che non ci siano i presupposti. Allora, sic有沒有 misogliari che si parla scoperta